Quarta volta qua, c'è sotto allo frutturo in sto qui Dalla mattina la sera Quanta posta, non ti sembrava vecchio? Di salire qua sopra e fare un scantolo, l'ha smanacato L'ha smanacato, l'ha fatto quello dei bagni No, no, immagino che se vanno tedesco con te Ma allora, non ti ho detto che devi tornare domani E domani non facciamo un'altra storia, un'altra questione Io quello l'ho già fatto di riportare il palazzo Io fai le mortifiche certamente Sì, perché queste figure non le ho mai fatte, mamma E io sono costretto a farlo, è naturale Perché i mestieri che lo fai non le faccio Però non ne parliamo Non ne parliamo Ma insomma, poi avete detto che stasera dovete partire Quello domani torno, non mi ci trovo e mi ci devo contrastare io Ma ci sono ammazzate con quelli Ma io non capisco Il telefono me l'hanno fatto Gli hanno tagliato la luccia Gli hanno staccato l'acqua Gli hanno lasciato da casa, non trovato più niente Grazie 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 Grazie